Grazie della linea e bentrovati a questo spazio che Just Today dedica ai nostri social. Anche oggi vi diamo il benvenuto accogliendo tutti coloro che dalla nostra televisione ci seguono e salutando anche invece tutti coloro che quotidianamente ci seguono attraverso le nostre pagine sia di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Twitter e poi naturalmente attraverso i nostri siti web. Proprio per questo voglio ricordare, essendo un sito nuovo, quello di PadrePio.tv. Attraverso questo sito potete vedere la nostra emittente televisiva e scoprire attraverso i programmi le varie rubriche e naturalmente anche tutto il palincesto. Una sezione molto importante per scoprire anche quelli che sono i cambiamenti. Abbiamo vissuto in questa settimana due giorni abbastanza affollati qui a San Giovanni Rotondo. Rivedere il paese di San Pio da Pirelcina pieno di fedeli è stato davvero bello e proprio per questo il nostro ufficio ha preparato per il primo novembre un video che vi invitiamo attraverso le nostre pagine a rivedere insieme che racconta quello che è stato il pellegrinaggio vissuto qui in questi giorni. Anche perché tanti ci hanno scritto segnalando proprio che il 2 novembre essendo stati qui a San Giovanni Rotondo hanno anche visitato il cimitero del paese. Il cimitero dove ci sono dove sono sepolti i frati minori cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio è una tappa particolare dedicata proprio alla cappella dove sono custodite le sfoglie dei genitori di Padre Pio. E poi un altro avvenimento abbiamo vissuto insieme il primo novembre grazie ad una festa importante dedicata al decano della Fraternità di San Giovanni Rotondo fra Ludovico Coccola che proprio il primo novembre festeggiava 71 anni di ordinazione sacerdotale. Proprio per questo la pagina vocazioni, la pagina Facebook di vocazioni che insieme con Fra Pasquale Cian ci curiamo, ha trasmesso in diretta la celebrazione eucaristica delle 11 e 15. Anche questa è presente sui nostri social. E anche oggi approfittiamo di questo spazio per ricordarvi il numero WhatsApp dove chiedere le informazioni relative al palinzesto ma anche e soprattutto alle iniziative del nostro santuario. E poi vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera, quella con la preghiera sotto la croce delle 20 e 45 che sarà in diretta sulla nostra emittente televisiva ma anche sulla nostra pagina Facebook Padre Pio TV e la pagina YouTube. Vi ricordiamo anche il numero di telefono dell'ufficio Pellegrinaggi per poter richiedere le vostre intenzioni di preghiera 0882 41 75 00. Grazie alla prossima settimana. Grazie.